28 novembre 2023. Madonna di Anguera. Arriva la grande e terribile battaglia. Siate coraggiosi, siate con Gesù. Nel messaggio trasmesso dalla Santa Madre di Anguera emergono parole cariche di profonda preoccupazione e richiami ad una battaglia spirituale imminente. Il richiamo alle glorie di Dio per i giusti si intreccia con un avvertimento chiaro. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. Una profezia di vittoria, ma anche un monito sulla necessità di affrontare la croce per giungere alla vittoria. Il testo evoca l'immagine di coraggiosi soldati in tonaca, fedeli difensori della verità, pronti a testimoniare ciò che è di Dio. La promessa di una vittoria finale è accompagnata dall'invito al coraggio. Leggiamo il messaggio. Cari figli, le glorie di Dio saranno per i giusti. Non dimenticate, a chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. I traditori della fede non vinceranno la grande battaglia. La vittoria sarà per i coraggiosi soldati in tonaca che amano e difendono la verità. Attraverso di loro le anime saranno nutrite dalle lezioni del passato. Verrà il giorno in cui molti fedeli abbracceranno i tesori spirituali e testimonieranno ciò che è di Dio. I nemici saranno soli e il mio Signore sarà con il suo popolo fedele. Coraggio, non c'è vittoria senza croce. Non allontanatevi dal cammino che vi ho indicato. Questo è il messaggio che vi trasmetto oggi nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Grazie.